Sono circa 200 i ticket venduti per la riflessione scolastica fornita nelle scuole dell'infanzia di Modica. Il servizio è partito con largo anticipo rispetto agli scorsi anni caratterizzati dalle polemiche e dai continui ritardi nell'avvio della fornitura dei pasti. A distanza di una settimana dall'inizio si cerca di tracciare un bilancio. L'amministrazione sta mettendo in campo una serie di iniziative. Tra le novità la rintracciabilità dei prodotti. Gli alimenti come pane, pasta, carne, frutta e latticini provengono da aziende della provincia che quotidianamente forniscono i prodotti alla ditta che ne predispone il confezionamento. L'azienda ha fornito la sua disponibilità alla preparazione di piatti tipici in occasione delle festività. In ogni scuola è stata inoltre istituita una commissione composta da 4 genitori e 4 insegnanti preposti a controllare lo stato delle cucine. La riflessione scolastica è partita bene e sta cercando di crescere il numero di giorno in giorno. Siamo ad una quota di circa 220 pasti giornalieri. Il nostro obiettivo, cioè della mia ditta che rappresento, la Risto Catena SRL, è quello di arrivare massimo alle vacanze di Natale con almeno 600-700 pasti. Il costo del servizio è di 2,92 euro ma viene regolato sulla scorta del reddito dichiarato come ISEE con la sua divisione in fasce. L'obiettivo è anche quello di fornire sostegno alle famiglie con difficoltà economiche. Soprattutto con le fasce, quando riguarda il rimborso, noi abbiamo mantenuto il costo in effetti reale uguale a quello dell'anno scorso. In più per le fasce molto più disagiate stiamo cercando di mettere in atto qualche iniziativa a livello amministrativo, anche se con le casse sappiamo tutto che abbiamo difficoltà economiche, però che possa ulteriormente facilitare l'acquisto dei biglietti da parte dei genitori che magari si trovano in difficoltà economiche. Grazie.